I cavalli sono in partenza, partiti, in vantaggio si porta gradatamente Mariscos nei confronti di Bessi dei Griff con all'esterno Tommy Herr, quindi Absolute Rivalue con all'interno Shorty, segue per linee interne le Griss & Chic con all'esterno Per Nulla e Thinking About You. Gruppo ben riunito all'imbocco della curva di fondo alle spalle di Mariscos, che è sempre leader nei confronti di Bessi dei Griff che ha all'esterno Tommy Herr, quindi ancora Absolute Rivalue, Shorty, Thinking About You per Nulla e le Griss & Chic. Cavalli in retta d'arrivo, tutti a centro pista con Mariscos che guida sempre, attaccato all'interno da Bessi dei Griff, allargo da Tommy Herr con all'esterno Absolute Rivalue, cerca il Varco che non trova Shorty, mentre per linee interne cerca di avanzare per Nulla. Mariscos sempre in vantaggio a 350 dal palo nei confronti di Bessi dei Griff, poi Shorty che ha trovato il Varco nel tratto conclusivo a Bessi dei Griff, Mariscos e Shorty, Mariscos reagisce a Bessi dei Griff, mentre all'esterno si propone anche Shorty. Nel finale Mariscos prende chiaramente la meglio nei confronti di Bessi dei Griff, poi Shorty e per Nulla. Grazie. Grazie. Grazie.